Cosa pensi se chiamiamo 5 firmi architetturali internazionali per disegnare? Questa è la domanda che ho chiesto ai miei amici di D&D. Stefano Boeri, Maurizio Varratta, Cino Zucchi, 967 Hark e Alfonso Femia rispondono alla mia proposta con passione. 5 nuove architetture che illustrano diverse mani di esprimere un elemento molto semplice ma fondamentale come la ruota. Una domanda. Devo dire che questo lavoro è stato molto facile perché Giulio Jacchetti, insieme con la Commission, ci ha dato un pen magico che ha disegnato. e con questo potete traslare direttamente un'idea in un'immagine. È vero che commissionare un'handle per architetti è una cosa semplice, perché viene da un bambino molto complesso. ed è una cosa semplice. Quando abbiamo ricevuto la proposta di Giulio di designare un'handle, è stata la prima volta che ci faceva così complicate. ed è una cosa semplice. Questo è stato confermato che quando hai bisogno di affrontare molto piccoli obiecti, in un modo che hai bisogno di andare in ogni volta. È più o meno quello che hai fatto anche con l'architettura, con la proposta di sviluppo. e con la proposta di sviluppo. La approccia di sviluppo è la stessa in un bambino ed è in un elemento minimale. Non mi piace creare un obiettivo di sviluppo. Per l'architettura, l'interno e l'esercito. Siamo lavorando con una scala molto diversa di progetti perché facciamo l'architettura, l'interno e anche il design. Iniziamo questo progetto per vedere la simplicità. Si prende una mano, si prende una mano, si prende una mano, si prende una mano, un altro mondo, un altro mondo, un altro mondo, un altro aspecto. Mi piace molto quando la spazio è in diverse posizioni, per creare una differente condizione con la luce. E' importante creare, con una nazione, una differente reazione.